Leveria yagent per i 1-3 stealth o i 2-5 taunt reborn male male qua male 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 qua Kronx andava tenuto sto seguendo Tanderino e lui lo tiene ok grazie per l'info ce l'abbiamo comunque adesso vabbè concentriamoci cambio di deck mi ero anche un po' rotto di giocare quel deck ritardato dell'hunter finché vince bene se poi dopo devo prendere gli schiaffi sono tutti gli strunzi li devo beccare io le parole sono semplici come procede malicchio sono arrivato a final boss con l'antro ho trovato un pristo perso perso 3 poi ho droppato per il tempo per tornare in zona noi non contiamo niente non contiamo caldi non conosco nessuno che ammassa la squad la tipa che mi scopo si ammassa di squad noi quando prendiamo l'albatross giochiamo il flick sull'albatross ce ne sbattiamo non voglio giocare l'oscedo star non voglio giocare l'oscedo star non voglio giocare l'oscedo star il problema è che quando io gioco il galacchio pescherò sicuramente gli albatross la miga la miga l'albatross la miga l'albatross la miga l'albatross io non gioco sapo allora ragioniamo un attimo lo vogliamo fare qua e lo shadow step su cui lo vogliamo e voglio riprendere lui in mano dai ti prego fai il bravo io tengo così non posso tirare galacron fino a quando non distruggo gli albatross nel deck la mia la mia la mia la mia la mia la mia Grazie a tutti. Non so se prenderlo lui. Eh perché ripeso a fumare? Lascia stare. Lascia stare. Eh minchia però cazzo c'è rotti i coglioni. Unite. Precision. Perfecution. Annihilation. Devo beccarmi sta cancerata di merda contro figa. Non riesco a vincerlo a sta partita. Questo va a essere surrexion. Che cazzo di becca? Annihilation. Che cazzo. Che cazzo. Che cazzo. no 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 va bene va bene devo mettere il tanto a Van Cleef ma va bene si va bene sono io stronzo che devo beccare sto matchup qua il mazzo sembra una classe dell'ITIS va bene va bene vai 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 spero ancora non va a stare sul reaction fuck you up pescherò tutti gli alba tra spazienza va bene devo andare peggio overestendere è pericoloso da un lato perché comunque va bene lo faccio va bene va bene stanno finendo le risorse eh eh stanno finendo le risorse amico mio stanno finendo stanno finendo le risorse stanno finendo stanno finendo stanno finendo le risorse stanno finendo le risorse stanno finendo le risorse stanno finendo le risorse Deve giocare Deve giocare Spella 9 mana E clearare board Altrimenti ha perso Va bene Te pareva se non clearavi board Te pareva se non clearavi board Fuck you up Che col ti ho fatto paura Però guarda che è la giocata Che volevamo fare da 10 turni Poi dopo se la tua col fa paura Per carità Una giocata che set up da mezz'ora Ok Rosso duro Rosso duro Rosso duro Rosso duro Shadowstep 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 Togwaggle Shadowstep Leroy Jenkins Tranky tranky Jackpot Penance Shadowward death Time rip Jockey Galatron Jockey Galatron Merda E ti ha beccato Alex in mano Gliel'ho giocato C'è un war death Un problema Forbidden wars un problema Dammi un buon top deck Dammi sto cazzo di best baron Togwaggle Sta parita qua è difficile Sto giocando bene però Dai dammi Leroy Jenkins che vinciamo Dai Dai Pacele Dove Deve It's over bra No, va bene E' un nostro duro, sai Se mi desidererò i Jenkins No? Me lo dai? Mazza Albatross, che sfiga No due nel deck Ho pescato male qua, ho pescato Albatross, cazzo Dai, fammela vincere questa partita, l'ho giocata bene, merito io Premiami figa, 9 carte left, premiami Bella partita Eh, plug of death Ah, pericolo Oh, wow Ha clearato tutto Mi dai Mi dai libero i Jenkins per piacere Unfucking believable Unfucking believable Con la forza del cuore Con la forza del cuore Ma che partita ti ho fatto Bruce Se non ce n'hai capito tu cosa cazzo stavo facendo La partita di Dio figlio Ho tirato fuori le palle qua ragazzi Ma che partita di Dio figlio le palle